Ciao ragazzi! Allora, oggi vi mostro un nuovo prodotto che è il Godox BFP for Flash, cioè questo affare che è attaccato davanti al mio flash da studio, il QT600 Modello 3, che è il nuovo proiettore di Godox apposta per i flash. Mi avete già visto con altri proiettori, ma questo ha delle caratteristiche veramente fighe che gli fanno fare uno step in più rispetto ai precedenti. Ma vediamo insieme cosa vi arriva insieme alla confezione. Quando aprite la confezione trovate tutto all'interno di una borsina molto molto piacevole, di materiale che sembra abbastanza solido e durevole, e comunque è un bello step in avanti avere la borsa in cui tenere il proiettore. Vi arriva il corpo del proiettore stesso, una lente che in questo caso è l'85 mm, ma si può cambiare e di questo ne parliamo dopo. Poi vi arriva il Gobo Holder, cioè un pezzo metallico che serve per tenere i Gobo al suo interno, i Gobo con le forme. Poi vi arrivano alcuni Gobo appunto per usarlo con le forme stesse. E infine un adattatore da mettere davanti all'obiettivo per metterci dentro i gel colorati e quindi dare il colore alla luce stessa. Ma partiamo dal descrivere che cos'è questo oggetto. Allora, questo è un proiettore con attacco Bowens, quindi adesso lo scollego, è abbastanza pesantino ma perché giustamente ha davanti un obiettivo, e questo appunto è il classico attacco Bowens, che quindi si può attaccare a tutti i flash con tale tipologia di attacco, come ad esempio in questo caso il Godox QT603. Ed essendo un proiettore permette di creare con la luce delle forme, delle forme che possono essere o tramite i Gobo, quindi le forme di foglie, di finestre, eccetera, oppure delle forme tagliate, quindi dei semplici rettangoli, triangoli, forme del genere, rombi, così, che si ottengono grazie a queste lamine. Parliamo di caratteristiche tecniche. Allora, il proiettore è solido, di materiale bello metallico, quindi che dovrebbe durare parecchio nel tempo, e in più, come vedete, ha una struttura con molti fori che permette una grande areazione. Perché? Perché giustamente uno dei problemi principali quando si utilizzano i proiettori è smaltire il tanto calore dovuto alla luce di modellazione e anche al flash stesso, perché non so se avete mai provato a mettervi di fronte a un flash da studio che spara a piena potenza, vi assicuro che il calore lo sentite. Se non l'avete mai provato, mettetevi di fronte ad esempio a questo, al QT600, a potenza a un'unità, vi mettete a mezzo metro di distanza, vi assicuro che un lampo ad un'unità vi scalda la faccia. Una delle prime caratteristiche interessanti di questo proiettore è che ha la parte delle lamine, quindi quelle che le quattro lamine che permettono di creare rettangoli e rombi, insomma trapezze, tutte le figure solite che si riescono a fare, con quattro lati, ma anche con tre, perché a seconda di come le mettiamo riusciamo a ottenere anche quasi dei rettangoli. Vi dicevo, la caratteristica interessante è che la parte con le lamine è separata dalla parte dove possiamo mettere il gobo. Quindi noi possiamo utilizzarlo in modalità standard solo con le lamine, oppure possiamo metterci un gobo e andare a tagliare il gobo tramite le lamine. Questo è veramente interessante perché ci permette di non dover scegliere tra un gobo o tra una forma fatta con le lamine, ma le mette tutte e due insieme. Le lamine, quindi questi pezzi che servono per appunto creare delle fasce di luce, dei rettangoli, triangoli, eccetera, sono molto solide e metalliche anch'esse. L'holder dei gobo è questo pezzo metallico, quindi è un pezzo metallico anch'esso che di fronte ha un'apertura all'interno della quale possiamo inserire i gobo che vi vengono forniti. Ora, a parte questi gobo che vengono forniti nel kit base, che è quello che mi è stato inviato, è possibile comunque comprarne degli altri. Ce ne sono tanti e appunto in base a quelli che uno gli sembra che siano più interessanti, compra quelli. Comunque all'interno del kit base, che è quello che mi è stato inviato da Godox, ci sono un po' di gobo. Adesso mettiamo ad esempio questo qua con questa forma di finestra un po' di lato così. Quando è che è utile una finestra così rispetto alla finestra classica? È utile quando ad esempio lo utilizziamo lateralmente, quando abbiamo una luce laterale che deve simulare un tramonto ad esempio tramite il... come se passasse attraverso una finestra. La questione è molto semplice. Si prende il gobo, si inserisce all'interno del gobo holder, ok? E a questo punto si sblocca il pezzo qua sopra, ci sono due vitine, si inserisce il gobo holder qua dentro e il gioco è fatto, ok? Volendo, anzi volendo, a fare le cose fatte bene, si richiude lo spazio che tiene il gobo holder e siamo a posto così. Quindi, prima caratteristica interessante è appunto che la parte delle lamine e la parte del gobo holder sono separate, ma una seconda cosa veramente, veramente figa, e dopo cerchiamo di vederlo insieme proiettando una luce sul muro se ci riesco, è quella che la parte frontale può ruotare di 360 gradi, ce la facciamo ruotare all'infinito. E per chi ha mai usato questo tipo di proiettori, sa perfettamente che questa caratteristica ti cambia la vita, perché a volte devi creare magari una lama di luce da una parte o una linea fatta così e allora dici ma sposto quella, quell'altra e perdi quella di prima perché l'hai spostata troppo, l'hai spostata troppo poco, cerchi di farle ruotare, è un casino. Ecco, magari uno ha creato esattamente la forma che vuole, ma con questo adesso noi possiamo ruotare tutta la parte, possiamo ruotare tutto e quindi la forma che andiamo a dare è veramente, possiamo ruotarla da tutte le parti e ottenere quello che più desideriamo. Questo chiaramente semplifica parecchio la vita rispetto ad altri sistemi dove la parte frontale non è ruotabile, perché comunque permette veramente di fare quello che vogliamo e comunque ha alcuni punti, ogni 90 gradi, in cui c'è una specie di blocco, quindi sentite un clac. Adesso provo a farvelo sentire col microfono. Ok? Questo click è perché abbiamo ruotato di esattamente 90 gradi, quindi ogni 90 gradi c'è un clac che ci permette di capire che abbiamo ruotato di 90 gradi e in più sulla parte superiore c'è anche l'indicazione dei gradi con una frecciolina che ci fa capire di quanto abbiamo ruotato, di 30, 60, 45, quello che è. Il proiettore ha frontalmente un attacco di tipo Canon EF quindi può montare tutte le lenti Canon EF, ma viene fornita una lente che è l'85 mm, nel kit base che è quello che mi hanno mandato, che è una lente diciamola tuttofare, che è interessante perché se la sentite al tatto è di gomma, cioè si sente il peso, quindi c'è il vetro, tutto quello che volete, la parte dentro sarà anche metallica, dentro è metallica, però la parte esterna è fatta di una specie di gomma, il che è fatto apposta per evitare che uno si ustioni quando va a cambiare l'obiettivo. Questo perché? Perché appunto tante volte facendo tanti lampi magari a piena potenza oppure utilizzando molto in maniera importante la luce di modellazione, anche gli obiettivi si scaldano e uno potrebbe anche farsi male a toccarli. Ecco, con questa protezione di gomma che hanno messo intorno si evita questo problema, ok? Perché è una protezione di gomma bella bella importante, ok? Il che tra l'altro fa anche ben sperare che se mai cadesse probabilmente regge molto di più l'urto di altri obiettivi. Questo obiettivo tra l'altro ha anche una corsa per la messa a fuoco molto molto lunga, ok? Veramente una corsa che permette di fare variazioni minime e questo di nuovo è un fattore importante da considerare nell'obiettivo che si mette davanti al proiettore, perché se abbiamo la corsa della messa a fuoco troppo corta, quindi facendo magari mezzo giro abbiamo già cambiato il piano di messa a fuoco di chilometri, a quel punto allora diventa difficile magari andare a ottenere un taglio, una luce molto netta oppure non molto netta, quelle cose a metà, eccetera. Con questa, avendo una corsa molto lunga, possiamo veramente andare a regolare molto di fino la luce che andiamo ad ottenere. Oltre all'85 mm, la Godox mette a disposizione altri obiettivi con le stesse caratteristiche, quindi con la corsa lunga, la parte esterna di gomma per evitare il calore, eccetera, che sono in particolare il 48 mm, quindi bello wide, che serve fondamentalmente per illuminare gli sfondi, i fondali, un 65 mm che è un intermedio, quindi un classico medio, l'85 che è quello appunto da kit e un 150 mm che è veramente stretto e serve per proiettare luci di dettaglio. Se uno utilizza le lenti originali Godox e non una classica lente EF, che va benissimo e per carità funziona benissimo, ho provato ad attaccarle, l'attacco giustamente lo stesso. Dicevo, se uno utilizza una lente Godox, di queste qua, creata apposta per questo proiettore, può utilizzare anche un affare davanti, un pezzo di plastica, che ha delle scanalature che si vanno a infilare esattamente all'interno delle scanalature dell'obiettivo e questo holder permette di mettere all'interno dei gel colorati. La Godox mette a disposizione alcuni kit di gel colorati già pronti, ma volendo, dato che il sistema è così semplice, se uno ha i classici rotoli di gel colorati che servono per dare colore alle luci dei flash, basta ritagliare un quadratino, metterlo qua davanti e siamo a posto. Quindi il vantaggio di utilizzare una lente Godox rispetto al classico obiettivo EF che uno si trova da parte, perché gli capita di averlo lì negli anni, è che con la lente Godox possiamo veramente utilizzare i colori in maniera molto più facile. Chiaramente si può anche fare con le classiche lenti EF, basta metterci davanti il gel colorato e attaccarlo con il classico gaffer tape. Parliamo in ultimo del tipo di attacco. L'attacco è di tipo Bowens, ma tramite adattatori, che si possono comprare separatamente, si può andare a utilizzare un attacco di tipo Profoto, Broncolor, l'attacco Godox stesso, quindi se uno dei flash con un attacco Godox, alcuni sono usciti negli anni, e non con un attacco Bowens, di nuovo può comprare l'adattatore e utilizzare tranquillamente questo proiettore anche con attacco Godox. Andiamo ora a testarlo, spero si vedrà qualcosa. Io adesso accendo il flash, accendo la luce di modellazione che è già al 100%, ok? E lo proietto verso il muro staccando la luce video. Quindi spero, vedrete poi cosa sto proiettando su questo muro di qua, che uso come sfondo, e vediamo un pochino se riusciamo a vedere qualcosa. Allora, stacco la luce video, ok? E lo punto qua. Dovrebbe vedere, sì? Sì, perfetto. Allora, come vedete abbiamo le lamine che ci permettono di creare appunto delle forme tipo rettangolare, romboidale, eccetera, e tramite la messa a fuoco dell'obiettivo possiamo andare a rendere molto netta la linea in maniera facile, oppure possiamo andare a sfocarla. Quindi tutto è estremamente, estremamente facile. Se poi smolliamo la parte davanti, che è già smollata, in cui mettere il gobo holder, adesso riapro tutto questo, ok? Quindi otteniamo il bel cerchietto, e ci metto davanti una forma di finestra. Adesso lo vedete molto piccolo, ma immaginatelo poi fatto in maniera degna, con, cioè, un po' più da lontano, non esattamente a mezzo metro dal muro, ok? Quindi abbiamo questa forma di finestra, magari vi inclino un po' questo perché ho visto nella ripresa che si vede un po' poco, ok? Abbiamo questa forma di finestra che adesso, rispetto a prima, abbiamo la grandissima possibilità di ruotare tutto il corpo per poter posizionare questa forma di finestra esattamente come più ci aggrada. Quindi, ad esempio, adesso la mettiamo magari un po' inclinata così, perché ci viene bene in questa maniera, come se la luce fosse laterale, eccetera, e volendo, con questi, andiamo a tagliare questa forma, andiamo a ridurla. Questo è veramente un grandissimo vantaggio rispetto ad altri proiettori che avevo provato, perché permette veramente, da un gobo qualsiasi, di ottenere molto molto di più. E quindi abbiamo questa forma che possiamo far ruotare, possiamo tagliare, eccetera, ok? Adesso riaccendiamo la luce video e continuo a parlarvi. Quindi, a livello di funzionamento, avete capito, è estremamente facile, si prende il BFP, si attacca al flash con attacco Bowens, si mettono le lamine, oppure si mette il gobo holder e si fa la foto che si preferisce. Va considerato comunque che questo pesa abbastanza, non tanto per il corpo quanto per la lente, e quindi mi raccomando, sempre su treppiedi che siano belli robusti, non il classico treppiedino da flash speed light. La Godox, oltre al BFP for flash, ha anche creato una versione che si chiama BLP for LED, mi sembra. L sta per LED, BFP for flash, BLP sta per LED, ed è fondamentalmente lo stesso identico prodotto, quindi utilizza lo stesso obiettivo davanti alle lamine, al gobo holder separato, eccetera. È la stessa identica cosa, ma presenta una dissipazione del calore aumentata. Quindi rispetto a quello del flash, che per carità deve dissipare calore, ma di solito è un po' più contenuto perché le luci di modellazione non sono potentissime, perché comunque i lampi sono forti ma non si fanno in continuazione, ovviamente con alcune luci LED diventa importante invece andare a smaltire il calore, perché le luci LED, soprattutto oltre a una certa potenza, cominciano veramente a scaldare tanto, tanto, tanto. Parliamo di costo. Allora, per quanto riguarda il costo, questo è un modello in preproduzione, al momento non si può ancora acquistare in Italia, ma dovrebbe arrivare veramente a breve, e però da cosa ho visto, più o meno su store internazionali, su cui invece è già disponibile, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 euro, una roba del genere, che secondo me, per carità, è caro, però è anche giusto come prezzo per un oggetto che è metallico, fatto bene, solido, in cui vi danno già un obiettivo che è un obiettivo importante perché è fatto bene anche esso, quindi secondo me come prezzo ci sta tutto per il tipo di oggetto che è. In conclusione, quindi, il BFP for flash è un proiettore che serve veramente bene allo scopo di creare delle forme di luce, con la luce del flash, perché tramite le lamine e il gobolder che sono separati, tramite il fatto che può ruotare la parte frontale e quindi andiamo a ruotare le forme che generiamo, semplifica parecchio la vita a chi lo vuole utilizzare. Detto questo, ringrazio Godox Global per avermelo mandato in anteprima rispetto a tanti altri, sono super contento di questa cosa perché è un prodotto che, come sapete, utilizzo tanto il proiettore e ovviamente adesso lo metteremo alla frusta nei prossimi sales fotografici per creare qualche foto interessante e secondo me con le chicche che ha questo proiettore ne verranno fuori delle delle. Ci vediamo alla prossima, ciao!